benvenuti ad una nuova puntata di minuti di recupero abbiamo il piacere di ritrovare oggi con noi il giornalista di footballa.it francesco domenichini ciao francesco bentornato un piacere di trovarti ciao andrea e ciao a tutti i nostri ascoltatori francesco stanotte c'è stato un annuncio che ha un po sconvolto il mondo del calcio la nascita della superlega ti chiedo due cose e perché ho anche letto i tuoi messaggi sui social cosa ne pensi e come credi che si evolverà questa storia allora il mio pensiero su questa superlega è assolutamente negativo ma non per un discorso che si debba avere paura dei cambiamenti paura del futuro è giusto che il calcio europeo evolva è giusto che il calcio europeo porti a dei cambiamenti ma la cosa dalla quale non si può trascendere non si può assolutamente creare dei limiti è quello che ci debbano essere determinate squadre eh iscritte di diritto di legge senza che si possano portare ad una retrocessione e senza che possano dare l'opportunità ad altre squadre di poter entrare a loro volta all'interno di questa competizione se poi eh si dovesse fare una nuova Champions League dove magari si va ad aumentare il numero delle squadre dei campionati maggiori quindi magari non lo so al posto di portare le prime quattro nei primi nei primi quattro campionati si andrebbero a portare le prime sei magari aumentando il numero di squadre eh non lo so a quarantotto come potrà essere il mondiale che verrà fatto nel duemilaventisei ci sono tanti modi per dare l'opportunità a eh a un maggior numero di squadre di eh di poter fare una competizione europea e di togliere il rischio alle grandissime di eh non fare la Champions League come sta rischiando la Juventus come rischia fortemente il Liverpool in Inghilterra quindi queste squadre pensano che non facendo la Champions sarà un tracollo economico ed è vero vogliono tutelarsi in questa maniera ma non è assolutamente la maniera giusta da un punto di vista sportivo perché uccide completamente il senso di sport che è un senso assolutamente meritocratico quello che andrà a portare io mi auguro che sia soltanto un bluff nel senso questo tentativo delle grandi squadre di mettere pressione su UEFA e FIFA per poi poter riavere degli importanti ricavi in un secondo momento eh mi auguro che vada a a finire in questa situazione certo è che dal mio punto di vista comunque vada a finire queste dodici squadre ci fanno una figura pessima certo veniamo invece a quella che è la cosa che forse tutti amano l'attualità del campo che significato assume il pari conquistato ieri al Maradona nella corsa dell'Inter verso lo scudetto è sempre bello tornare al campo perché l'unica cosa che conta il campo è la cosa per cui ci piace il calcio e per quanto riguarda Napoli-Inter io credo che eh il pareggio sia andato sostanzialmente bene a tutte e due l'Inter nonostante la vittoria del Milan nonostante il Milan abbia accorciato i due punti in classifica non vedo come eh possa perdere lo scudetto nove punti sono comunque un un margine molto ampia sette giornate dal termine e è venuta meno una delle tre partite eh clou del finale di regione dell'Inter come la trasferta di Napoli ne è uscita tutto sommato indenne e anche al Napoli eh va bene così eh tutte le squadre di vertice in questo momento escludendo solo la Juventus che comunque avrà ancora la penultima giornata Juventus Inter tutte hanno comunque fatto dei punti con l'Inter al Napoli questo mancava avendo perso l'andata a San Siro adesso anche il Napoli ha fatto il suo punto con l'Inter ha recuperato un punto sulla Juventus e penso che vedendo anche gli ultimi dieci minuti di partita che il pareggio andasse molto bene a tutte e due. Perché il Milan registra una differenza di rendimento così netta tra i match giocati al Meazza e quelli giocati in trasferta? Ma il Milan eh vive una situazione particolare e il Milan è una squadra che non pensava allontanamente di vivere una stagione del genere quest'anno che l'ha portata a essere addirittura campione d'inverno e quindi questo giorno di ritorno le altre squadre hanno eh cambiato atteggiamento nei confronti del Milan quindi se magari nel giorno d'andata ci si aspettava di affrontare una squadra che potesse sì lottare per la Champions però non era di tra le primissime quindi ci si scopriva un pochino di più nel girone di ritorno questo atteggiamento eh viene un po' meno e quindi a San Siro le squadre arrivano contro il Milan puntando più su un pareggio dicendo ma sì il pareggio contro il Milan San Siro ci può stare e quando il Milan deve fare la partita e attaccare va in difficoltà cosa che invece gli riesce più facile in trasferta proprio perché le squadre anche se eh minore da un punto di vista della classifica tendono comunque a scoprirsi e quindi il Milan può giocare di ripartenze e di slancio come è stato il modo di giocare del Milan che lo ha portato ad essere primo per tutto il giorno d'andata. Nell'altro big match di giornata l'Atalanta piega 1-0 nel finale la Juventus e conquista uno di quei successi che in gergo si dice valgono doppio. Ti chiedo Gasperini è riuscito a trasformare la sua creatura per il discorso poi fatto anche a microfoni spenti in una di fatto grande del nostro calcio che riesce a vincere con cinismo e anche con cinismo e concretezza e non solo quando domina l'avversario attraverso il suo gioco. Beh l'Atalanta io credo che ormai sia diventata a tutti gli effetti una grande del calcio italiano anche perché eh se una stagione può essere casuale due può essere possono essere dovute dallo slancio della stagione precedente ma quando diventano cinque stagioni consecutive ad altissimo livello vuol dire che l'Atalanta è diventata una grande a tutti gli effetti. Io ho ritenuto l'Atalanta per tanto tempo e la ritengo tuttora anche se ormai il discorso scudetto è abbastanza finito comunque la vera antagonista dell'Inter nel girone di ritorno perché il modo di preparare la squadra di Gasperini è sempre stata un modo sul lungo periodo infatti se noi guardiamo questi cinque anni di Gasperini all'Atalanta il giro d'andata è sempre stato più difficoltoso rispetto a un ritorno dove l'Atalanta prendeva il largo su tutte le avversarie e recuperava punti su tutte e infatti eh l'Atalanta da febbraio ad oggi dalla quarta del girone di ritorno fino ad oggi l'Atalanta ha fatto solo un punto in meno rispetto all'Inter il che vuol dire lo scontro diretto perso a San Silvio dall'Atalanta e i due punti recuperati nella giornata di ieri quindi fondamentalmente il cammino oggi di Atalanta e Inter da febbraio a alla giornata di ieri è identico e questo perché? Perché l'Atalanta punta proprio sul lungo periodo all'interno di una stagione. La vittoria con la Juventus secondo me la porta ormai in maniera praticamente certa alla Champions League nella prossima stagione è una Champions League che si guadagna ancora una volta in maniera più che meritata e quest'anno sì l'Atalanta ha dimostrato di essere molto più cinica molto più concreta di sapere aspettare gli avversari e e fargli male nei momenti importanti eh la Juventus crolla e adesso rischia seriamente eh l'eliminazione dalla dalla Champions League e l'eliminazione dei primi quattro posti. E' proprio questo vedi stai aprendo la strada alla mia prossima domanda i bianconini adesso rischiano seriamente di eh finire il torneo fuori dalle prime quattro? Ah in questo momento sì e lo stanno rischiando dal momento in cui la Juve è uscita dall'orbita Inter e quindi non può più lottare per lo scudetto. La Juve era partita con quell'idea voleva il decimo titolo consecutivo dal mio punto di vista a livello di Rose l'Inter fin da subito ha avuto qualcosa in più rispetto alla Juventus. La Juve non è mai entrata però nell'ottica che quest'anno il primo obiettivo era entrare nelle prime quattro perché c'erano sette squadre molto forti all'inizio. Si veniva da una stagione molto complicata come quella appena passata con eh un'estate intera a finire il campionato con partite ogni tre giorni con un gran caldo e con una nuova stagione ancora iniziata con partite ogni tre giorni per poter eh disputare i giorni di Champions League e far la Coppa Italia eh giocare il campionato quindi è un campionato molto particolare con squadra di livello la Juve si è indebolita non ha mai voluto accettare questo suo diciamo regredire eh come valore all'interno della Serie A e ora che si trova ben distante dall'Inter sembra quasi che abbia mollato un po' e a questo punto rischia rischia seriamente l'eliminazione perché è una squadra che eh non non è più connessa non è mai stata per tutta la stagione però in qualche modo grazie agli assoli di qualche suo grande giocatore è riuscita comunque a fare i suoi punti in questo momento sembra completamente in caduta libera. Continua invece il trend positivo del Napoli che ferma la serie di vittorie della capolista. Quali sono le armi su cui Gattuso deve puntare per riuscire a conquistare il tanto agognato quarto posto? Ma il Napoli sicuramente sta vivendo un ottimo seconda parte di stagione dopo che ha avuto molti problemi nel giro d'andata un po' dettata da eh diversi infortuni che ha avuto che hanno limitato la sua rosa e eh soprattutto un calendario che è diventato anche molto più leggero perché anche il Napoli ha dovuto affrontare eh una partita ogni tre giorni nella prima parte con l'Europa League quindi non potendo fare un grande turnover nella prima parte ha dovuto utilizzare sempre gli stessi giocatori fondamentalmente mentre ora eh non avendo più la Coppa Europea può concentrarsi solo sul campionato rientrando anche altri giocatori chiaramente il valore della rosa è aumentato. Il Napoli secondo me ha avuto un po' un problema a inizio anno che è stata una mh formazione di una squadra non proprio sempre logica da un punto di vista eh della rosa del modo in cui poter giocare. Ci è voluto tanto tempo per Gattuso e e secondo me comunque Gattuso ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione in questa stagione a Napoli. Eh il rientro di Oshiman sicuramente è un rientro molto importante che eh secondo me comunque non ha non ha dimostrato ancora il suo completo potenziale ha fatto vedere delle buone cose eh però nella prossima stagione ora che ha eh un anno di Serie A alle spalle che conosce meglio il nostro campionato sicuramente può fare ancora 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 molto meglio. Il Napoli in questo momento eh credo che si giocherà l'ingresso in Champions League con la Juventus senza dubbio ma anche con il Milan perché eh comunque il Milan ricordiamo che nelle ultime sette partite ha dovrà ancora affrontare la Lazio, la Juventus e l'Atalanta tutte e tre in trasferta. Quindi è facile che il Milan possa perdere dei punti e il Napoli dovrà stare molto attento per poter per poter sfruttare i vari passi passi di quelli che ha davanti. Veniamo proprio alla Lazio che ritrova i gol di Immobile e supera il Benevento in un match in cui concede qualcosa di troppo indifesa. Fino a dove possono spingersi i bianco celesti? Eh la Lazio diciamo che io l'ho sempre considerata la la vera favorita per il quarto finale. Io ho sempre pensato che questa squadra potesse eh confermare la posizione ottenuta l'anno scorso e non dimentichiamo che la Lazio in questo momento ha sempre una partita da recuperare quindi vincendo il recupero a Roma con il Torino quindi un'eventualità eh non proprio impossibile si ritroverebbe a un punto dalla Juventus al quarto posto quindi la Lazio comunque è pienamente in corsa per per l'ingresso in Champions League. La Lazio in più ha eh dalla sua parte il fatto che la squadra si conosce molto bene. Sono anni che questa squadra eh portata avanti da Simone Inzaghi gioca in un determinato modo, ha dei giocatori che eh sono sempre eh gli stessi e quindi giocando sempre nello stesso modo e con gli stessi compagni c'è la possibilità di eh migliorare la la coesione di squadra e quindi cosa succede? Succede che la squadra rende meglio e mh può effettivamente fare delle dei filotti di vittoria. La Lazio una volta uscita dalla Champions League eh ha infilato una serie di risultati molto positivi. Non magari in maniera molto convincente sempre come può essere stata la vittoria eh le vittorie risicate negli ultimi minuti con Spezia e Verona però effettivamente è un modo di fare di questa squadra qui perché anche l'anno scorso durante il periodo delle eh della serie di vittorie consecutive della Lazio erano state tantissime le vittorie negli ultimi minuti nei minuti di recupero. Quindi diciamo che è anche un modo di fare di Inzaghi, tenere la squadra sempre concentrata e sempre con l'energia in fondo anche quando gli altri la perdono. Quindi la Lazio è pienamente in corsa per la Champions League. Veniamo invece alla lotta salvezza. La rocambolesca vittoria è rimonta ai danni del Parma. Può essere la scintilla che sblocca il Cagliari? Beh sicuramente una vittoria del genere dà molto morale e molta carica. Io ricordo qualche anno fa quando il Cagliari fece quella salvezza miracolosa nel 2008 e partì proprio da una vittoria al Sant'Elia contro il Napoli molto simile a quella ottenuta contro il Parma con due gol nel recupero e una vittoria per 2-1 che poi portò a una straordinaria rimonta, una straordinaria salvezza dei Sardi. Diciamo che allora però nonostante che Cagliari fosse già molto lontano dalla lotta salvezza era comunque la prima giornata di ritorno. Oggi siamo comunque alla 31esima. Le giornate sono poche però il distacco non è proibitivo. È vero che la vittoria del Torino ha complicato decisamente i piani del Cagliari però ci sono state anche le sconfitte di Fiorentina e Benevento quindi in questo momento la rincorsa non è più solo sul Torino ma è su tre squadre e come avevo fatto per il discorso sulla Juventus la Fiorentina non si aspettava assolutamente di essere in questa posizione di classifica e rischia di non sapere rispondere a dovere a questa pressione che verrà da dietro ai Cagliari. E chiudiamo proprio con l'ultima domanda alla nostra chiacchierata e riprendo a parlare di Fiorentina la associo al Benevento tra i Viola e i Sanniti. Chi rischia di più? Allora se noi dovessimo guardare la rosa direi sicuramente il Benevento. Anche se onestamente a inizio anno non avrei dato in lotta per la retrocessione nessuna delle due perché anche il Benevento mi è sembrata una squadra ben costruita fin dall'anno scorso in Serie B con un progetto molto valido. Effettivamente però nel giro di ritorno si è un po' assopito e si è un po' guardato troppo allo specchio felice di quello che aveva già compiuto. Il Benevento ha una squadra per salvarsi, la Fiorentina ancora di più però effettivamente quando si è in quelle situazioni di classifica la Sampdoria del 2011 lo insegna bene che la partita con i preliminari di Champions League ha chiuso l'anno con la retrocessione. Quando non ci si aspetta di lottare per la salvezza e poi si è in quella situazione lì le gambe pesano di più, il pallone pesa di più, la situazione diventa molto complicata. Quindi paradossalmente devo dire che in questa situazione vedo più a rischio la Fiorentina. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Francesco Domenichini per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Francesco, grazie. Grazie mille a te Andrea, ciao a tutti.